Siamo con il presidente della saga Catone perché ci sono importanti novità che riguardano l'aeroporto d'Abruzzo, circa il ripristino di alcuni voli. Sì, per fortuna c'è una leggera ripresa che inizia già da questa settimana, quindi dalla prima settimana di febbraio, che prevede il ripristino dei collegamenti per Torino, Bruxelles-Charleroi e Londra. Era previsto anche il ripristino di Francoforte anno, ma ci sono dei problemi all'interno della pista del collegamento di scalo ed è in vendita dai primi di marzo. Ci saranno delle novità sugli orari? Sui collegamenti operati da Ryanair c'è qualche leggero cambiamento sulle frequenze, quindi si riparte un pochettino più leggeri per aumentarli andando vicino alla stagione summer. Si consiglia sempre di vedere il portale e l'app del vettore Ryanair per andare tranquilli sugli orari e i giorni dei collegamenti. Mentre invece c'è un'importante novità per quanto riguarda il collegamento operato da Ita su Linate, rimangono sempre due frequenze quotidiane, ma il volo del mattino in partenza da Pescara parte un pochettino più tardi. Cosa ancora più importante è il volo di ritorno, posto che tornare all'incirca a mezzanotte arriva a Pescara alle 21.30. Insomma si cerca di tornare lentamente a una relativa normalità? Assolutamente sì, se si prende in esame ciò che è avvenuto l'anno scorso, la ripresa è ripartita tra marzo e aprile, adesso sta leggermente riprendendo già dalla mensilità di febbraio e comunque ci apprestiamo ad arrivare con un'importante programmazione già nella summer 2022. Qualche anticipazione? Si sta lavorando in sordina e con diversi vettori, c'è un rapporto costante e quotidiano con tutti i vettori presenti già ad Abruzzo Airport. In più stiamo ragionando con qualche altra compagnia per vedere se si riesce a costituire qualche nuovo collegamento. Non è semplice, il momento non è migliore e non ci aiuta, ma già avere un rapporto quotidiano e costante è un importante punto di partenza. Grazie a tutti.